Questa, intanto mi scrivono Maria Grazia Cavallari e Franz, detto anche Re degli Orologi. Grazie. Ok, ciao intanto, ben ritrovati. Se avessi la possibilità di fare il giro del mondo in barca, a vela, quale libro e quale cilino mancherebbero a bordo? Un abbraccio grande, buon Natale e buone feste. Auguri anche a voi, restituisco buon Natale e buone feste sia a voi che alle vostre famiglie. Oh, barca a vela, intanto per essere in barca a vela bisogna farsi un culo che la metà basta e io ne so qualcosa perché ci sono stato, sono stato, ho fatto per così dire il marinaio e c'è veramente da sgobare. Se proprio devo andare in barca a vela potrebbe essere Ciò che inferno non è, del mio amico Alessandro D'Avenia, un libro uscito da poco che sto leggendo e che mi piace, da morire. E i cittadini di pulirsi non dovrebbero mai mancare, così mi carico un po'. Cioè trovo la carica per magari cercare di far presto tornare a casa, magari da mia figlia che mi aspetta. Ciao Fil, tutto bene?